Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Cullerbo imprecando, ed è un dipinto ad olio del 1899 del pittore finlandese Axelie Gallen-Kallela. È nella collezione Antel. Cullerbo è uno dei personaggi centrali dell'epopea nazionale finlandese, il Kalevala. Il dipinto di Axelie Gallen-Kallela raffigura un punto di svolta nella sua triste storia. Cullerbo è un orfano che viene venduto come schiavo e mandato nelle terre selvagge come pastore di bestiame. La cattiva padrona di casa ha riempito la pagnotta che gli porge con un sasso e quando lui cerca di inciderla rompe il coltello. Unico ricordo del padre. Infuriata, Cullerbo convoca un nuovo branco composto da lupi, orsi e linci, che la divorano. Tuttavia, i problemi di Cullerbo non finiscono qui e un'infinita spirale di vendette distrugge non solo la sua nuova famiglia, ma anche lo stesso Cullerbo.